Hello guys, Koto here! Ci siamo, siamo arrivati al sesto Battle Pass. Molti di voi avranno già preso tutte e cinque le armi disponibili. Oggi andremo a parlare di quale arma conviene raffinare per prima, in termini di utilità chiaramente. Sigla! Faccio subito un appunto. Questo video è atto ad aiutare la gente super indecisa su quale arma raffinare una volta collezionate tutte quante. E' normale che prima di raffinarne una dovreste perlomeno avere una coppia di tutte quante. Questa è una classifica generale, chiaramente può variare a seconda dei personaggi che avete. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo alla classifica. All'ultimo posto, ma ultimo ultimo eh, a millemila chilometri dalla penultima, abbiamo i livelli di St. Hunt. Quest'arco ha una passiva chiaramente di utility che raggruppa i nemici. Il refinement non fa altro che aumentare minimamente il danno di questa utilità accorciandone minimamente il cooldown. Pensando all'abisso, dove appunto è più una questione di danno e di speedrun, questo refinement non vi porterà di certo a fare 3 stelle invece che 2. Deathmatch! Per quanto questa lancia sia ottima per essere uno 4 stelle, la raffinazione ha un valore molto basso in quanto aumenterà del 4% il vostro attacco difesa con 2 o più mob attorno e del 6% degli stessi parametri in un 1v1. Per quanto possa sembrare buono, il valore d'attacco percentuale ha generalmente molto meno impatto rispetto al danno percentuale inflitto. Questo dettaglio la porta quindi ad essere la penultima nella nostra classifica. Solar Pearl! Un'arma molto sottovalutata, complice anche il fatto degli ottimi libri disponibili in game. La raffinazione di quest'arma ci regala il 5% di danno inflitto per entrambi gli effetti. Il buff l'elemental skill e l'elemental burst ha facilmente un uptime del 100%. Tuttavia, ciò non si applica anche alla seconda parte, dove personaggi con cooldown molto alti non riusciranno a mantenere sempre attivo il buff agli attacchi normali. Per questo motivo si aggiudica il terzo posto. Blacksword! Con la raffinazione questa spada ci regala un 5% di danno sia agli attacchi normali sia a quelli caricati. Così, a cazzo, senza clausole in ogni momento. Inoltre aumenta la percentuale di cura del 10% quando fate un crit. Considerando che l'abisso sta diventando pian piano sempre più difficile, è molto buono avere anche un'altra forma di sustain oltre che all'healer. Il primo posto se lo aggiudica la Serpent Spine. Ogni refinement di quest'arma aumenta il danno inflitto dell'1% a stack, quindi stiamo parlando di un 5% a massimi stack. Andando inoltre a ridurre il danno subito del 0,3%, sempre per stack. A massimi stack, a refine 2 chiaramente, prenderemo il 13.5% di danno in più, piuttosto che il 15%. Non c'è molto altro da dire in realtà, i numeri impressionanti parlano già da soli. Per questo video è tutto. Quale arma sceglierete di raffinare? Scrivetelo qui sotto con un commento. Vi ricordo che io sono in live su Twitch ogni sera alle 22.30. Vi lascio il link in descrizione, andate a lasciare un follow ragazzi. Spero di avervi aiutato a decidere quale arma scegliere, nel caso vi raccomando di lasciare like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci rivediamo al prossimo video. Cotto Out